buongiorno amiche buongiorno amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella per cara perché pubblico un video al giorno così sarei sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti oggi voglio parlarvi di una moto molto interessante della kawasaki 500 mac terzo del 1973 siamo nel primavera del 1969 quando kawasaki presenta una magnifica 502 tempi indimenticabile la moto rimase in produzione dal 69 fino al 1977 la mac terzo è una a tre cilindri a due tempi estremamente potente soprattutto caratterizzata da un'accelerazione fulminea proprio perché a kawasaki vuole impressionare la critica il pubblico con le prestazioni estreme di questo modello alla potenza del motore non corrispondono caratteristiche altrettanto valide per quanto riguarda il telaio che è privo di rigidità le sospensioni e la frenatura che non sono adeguate alla notevole potenza il motore quindi un tre cilindri vediamo la moto qui in questa bella immagine dicevano tre cilindri fronte marcia a due tempi raffreddato ad aria con una cilindrata di 498 centimetri cubici l'alimentazione fornita da tre carburatori della micuni la potenza massima di 95 59 scusate cavalli 8.000 giri al minuto con una coppia massima di 56 newton metri a 7.000 giri al minuto l'avviamento a pedivella come si vede anche dall'immagine il telaio formato da una tradizionale doppia culla chiusa in acciaio e la sospensione interiore formata da una forcella teleidraulica mentre al posteriore abbiamo un forcellone oscillante con i due ammortizzatori regolabili su tre posizioni freno anteriore composto da un disco con pinza doppio pistoncino al posteriore invece il freno a tamburo con un diametro di 180 mm le ruote raggi sono da 21 pollici l'anteriore e al 18 pollici al posteriore il serbatoio contiene 16 litri di benzina con una velocità massima di 192 km orari e un peso a secco di 185 kg quindi anche esteticamente vedete la moto si presenta leggera sia per quanto riguarda appunto il serbatoio molto raffinato molto esile 16 litri insomma la sella però vedete abbondante bello il codino belle le cromature che accompagnano la moto splendenti come il serbatoio che era di un verde con i glitter quindi con questa caratteristica verniciatura che presentava appunto delle piccole scaglie di metallo cosiddetta metallizzata che risplendeva al sole due ragazzini insomma ci sembrava un oggetto estremamente prezioso bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo da essere sempre aggiornati qui sotto i vostri contenuti sempre graditi ciao e buona serata